è instancabile madonna nonostante sia reduce da un periodo in cui la sua salute ha fatto preoccupare non poco i suoi fan di tutto il mondo dopo aver tenuto le due date italiane secondo whoops e madonna si è concessa un tour a palazzo reale per visitare la mostra di luigi iang o i fotografi che hanno realizzato con lei un servizio di vanity fair la stessa dove ha tenuto un'esibizione anche sul figlio della star rocco ricci artista figurativo in serata poi si è scatenata prendendo parte a due serate mozzafiato la prima è stata organizzata da dolce e gabbana in suo onore nel celebre locale martini presenti nella location di corso venezia anche diversi vip italiani come mamood nick cerioni di squerd e rocco sifredi che ha portato con sé il figlio lorenzo tano ormai parte del mondo dello spettacolo il suo celebtation tour è ripartito da londra pochi mesi dopo lo stop imposto alla cantante per via di un'infezione batterica era lo scorso giugno infatti quando la cantante ha fatto tremare i fan non pensavo che ce l'avrei fatta e nemmeno i miei medici ha ricordato sul palco londinese non sapevo davvero dove fossi ma gli angeli mi stavano proteggendo se volete conoscere il mio segreto e come sono riuscita a farcela e sopravvivere ecco ho pensato devo essere lì per i miei figli devo sopravvivere per loro l'italia l'ha ospitata poi nelle serate del 23 e del 25 novembre per due show mozzafiato